Dal Vangelo secondo Matteo, le gratitudini. Gesù, veduta la folla, salì sul monte e quando si fu seduto gli si accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la sua bocca per ammaestrarli e disse Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché essi erediteranno la terra. Beati gli afflitti, perché essi saranno consolati. Beati gli affamati e assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacificatori, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi oltrageranno e perseguiteranno e falsamente diranno di voi ogni male. Per cagio mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nel regno dei cieli.